Carnevalissimo 2017 a Segusino, abbiamo con noi il presidente della Proloco, Dani Scoppe, e una giovane componente della Proloco, Martina Lio. Allora, presidente, come sta andando questa edizione di Segusino? Ma, sta andando benissimo perché il sole ci ha aiutato rispetto al brutto tempo di ieri. Abbiamo sette carri, tantissima gente, quindi sta andando veramente benissimo. Martina, raccontaci qualcosa di questo carnevale. Praticamente sono in gara sette carri e qui a Segusino si svolgerà la prima premiazione e mentre a Quero, più tardi, verso tardo pomeriggio, si effettuerà la premiazione finale. Abbiamo visto che c'è anche uno stand con il gruppo Alpini, come mai sono qui? Questa è la novità 2017, stiamo organizzando insieme il carnevale e anche il ristoro per tutti i carri. Tutti i fondi raccolti oggi dallo stand qua saranno devoluti per i paesi terremotati al centro Italia. Un'ottima iniziativa. Per concludere vuoi dirti qualcosa, Martina? Ringraziamo la Proloco di Segusino e le signore qui del paese che hanno fatto i crostoli che oggi sono qui insomma pronti per essere mangiati e ai tutti i volontari che hanno organizzato la manifestazione. E dopo Segusino è la volta di Quero, siamo con la Presidente Teresa Gallina, ci racconti il programma di questo carnevale di Quero. Abbiamo iniziato alle 14 con l'arrivo delle mascherine. Nel frattempo i nostri volontari stavano coccendo fritelle e crostoli. A un certo momento abbiamo fatto sfilare i bambini e a minuti ci sarà la premiazione. Verso le 16.30 arriveranno i carri da Segusino, dove loro faranno almeno due o tre giri intorno al paese. Nel frattempo i nostri volontari hanno cambiato menù, via le frittelle e i crostoli con panini, pastine e patate fritte per tutti. È il secondo anno di collaborazione con Segusino, come sta andando? Beh, come l'anno scorso abbiamo fatto così una prova, è andata benissimo. Quest'anno abbiamo fatto proprio in collaborazione con la Proloco di Segusino. Speriamo che vada avanti per un bel pezzo. Voglio ringraziare innanzitutto le signore dell'Auser, gli alpini, tutti i miei collaboratori e non collaboratori. E per le prossime iniziative abbiamo il 17 e il 18 marzo San Patrizio con due serate in piazza.